Finisce 3 a 3 lo scontro tra Chiaravalle e Giri Falco, un 3 a 3 epico diciamo di antica memoria con un Chiaravalle sotto per 3 a 1 che raccoglie il punteggio, il pareggio al 48esimo del secondo tempo e anche in 10 uomini. Siamo con un esponente di quella che abbiamo nominato spesso e volentieri famiglia Maellare, figlio del compianto franco a cui è stato intitolato questo bellissimo impianto da parte dell'amministrazione comunale. Peppe, intanto diciamo la soddisfazione di prendere questo punto quando ormai ci speravate pochissimo. Ma sicuramente come è andata la partita non meritavamo la sconfitta. Diciamo che il pareggio è il risultato più giusto anche se abbiamo qualcosa da richiamare, è mia colpa perché abbiamo sbagliato parecchi errori in difesa. Quindi però per l'ennesima volta anche oggi abbiamo recuperato, bisogna fare un plauso ai ragazzi perché sul 2 a 0 abbiamo recuperato 2 a 1, 3 a 1, alla fine 3 a 3 e infatti io negli spogliotoi prima della partita gli avevo detto proprio questo, di stare attenti alla prima mezz'ora che purtroppo noi soffriamo qualcosa che... e i fatti hanno dimostrato che... Una partenza a riccio insomma, in discesa sempre. In discesa però questo gli ho detto quest'anno abbiamo una bella squadretta, ci vogliamo divertire senza avere nessun tipo di problema però ancora paghiamo l'ingenuità anche se oggi è di qualche esperto invece di qualche giovane. La cosa che ho sottolineato nella telecronaca è che per fortuna è stata una partita abbastanza tranquilla. Ma dobbiamo finirla perché effettivamente siamo due paesi vicini, ci siamo rispettati, c'è amicizio, c'è tutto. Non ce ne sono, come anche, bisogna fare anche i complimenti a Boto Scorza e a Monesteraci. Noi siamo da questo punto di vista, 90 minuti in campo, poi quello che succede, succede. Quindi benvenga allo sport da questo punto di vista. E alla fine, mister Rondinelli, la vediamo dal bicchiere mezzo pieno perché spostate lo zero di classifico, un punto, dovevano essere tre, loro vi hanno regalato qualche gol ma alla fine siete stati un po' ingenui. In Genova perché in 10 contro 11 che non mantieni, diciamo, a livello del possesso palla. Invece abbiamo giocato, insomma, abbiamo favorito il gioco che volevano fare loro perché loro prendevano palla lunga, poi prendevano la palla e la buttavano tutta in aria di rigore per creare delle mische. Come infatti? Quelle due mische che ci hanno creato abbiamo fatto un calcio di rigore e una punizione. Insomma, abbiamo preso due voli. La mia squadra è stata molto ingenua perché sul 3-1 abbiamo avuto due possibilità di andare solo davanti al bordiere e non lo siamo riusciti a mettere. E su poi il 3-2, pure ancora un'altra volta, con Quirino e Coniti che non siamo andati. Difatti io mi sono meravigliato perché conoscendo la vostra squadra, conoscendo le capacità di Quirino e di Coniti di andarsene negli spazi larghi, come mai poi sono stati bravi davvero i difensori del Chiaravalle a fermarli. Però loro non avevano niente da perdere, andavano a decisi come si deve giocare al pallo, non cattivi, ma con la cattiferia giusta e sportiva e prendevano sempre palla. Noi ci siamo rilassati perché eravamo, secondo me, convinti che ormai la partita era finita sul 3-1, invece dopo un minuto abbiamo avuto il calcio di rigore, che l'abbiamo creato noi, che eravamo due. E io un minuto prima gli avevo detto... L'ha fatto un ragazzo di 16 anni, un under. Però un minuto prima mi ero rivolto, allora gli ho detto stiamo vincendo 3-1, stiamo calmi, non andiamo in avanti, come infatti abbiamo preso il calcio di rigore, come noi con i due terzini, con l'esterno basso e con l'esterno alto a spingere, cosa che non può succedere, pure a livello di prima categoria, seconda categoria ormai ti puniscono. Perché voglia capire queste cose. Al di là dell'amarezza, mister, diciamo che la sua squadra ha dimostrato di non meritare lo zero in classifica, ha dimostrato che può risalire. Io gli volevo dire una cosa, noi siamo venuti qua a Chiaravalle senza 4-5 giocatori, tra squalifiche, infortuni... Qualche vacanze di troppe. Ma non per giustificare, perché io ringrazio i miei giocatori per la prestazione che hanno fatto, solo che condivido gli ultimi 5-10 minuti di calo mentale, di concentrazione, insomma, con una squadra che sai che butta la palla, come infatti che loro buttavano solo la palla in aria di rigore per fare delle mesche. Ci siamo, loro hanno un centroavanti, un centroiozzo, che sa giocare a palla, che è un esperto, che ti mette in difficoltà, però ai miei gliel'ho già rimproverato negli spogliatoi perché sul calcio di punizione che abbiamo preso il 3-3, gli avevo detto di allungare la linea difensiva. La linea difensiva dopo, invece di portarla sul limite dall'aria di rigore, i due esterni si sono abbassati e prima di colpire, come infatti, ci hanno fatto gli uomini in aria.